Per ascolto significa non solo sentire, ma ascoltare con attenzione, attivando quelle tecniche di ascolto, che vengono anche dette ascolto attivo, che significa guardare in faccia la persona mentre parla, assentire col capo, fare domande, prendere appunti, cioè far capire alla persona che la stiamo prendendo sul serio e che la ascoltiamo. La macro classificazione è obiezione pretesto. Poi ci sono alcune obiezioni tutte tali che però possono essere definite come equivoco, dubbio o obiezioni sugli svantaggi del prodotto. Cioè sono tutti tre tipi di obiezioni, ma reali. Chiarire, fare delle domande. Quindi lei mi sta dicendo che posso sapere per... è la fase diagnostica. Classificare invece è riuscire a capire se ci troviamo di fronte a un'obiezione fondata o a un pretesto. Il cliente non ha i soldi, il cliente ha fretta, il cliente non ha potere di decidere. Se riesco a capire, perché è terribile fare una trattativa con un cliente che poi incomincia a dire ma no ma ci devo pensare, oppure poi le faccio sapere, continuo a ripetere. Allora lì dobbiamo un attimo capire se è un pretesto oppure se il cliente dietro questo pretesto ad esempio nasconde la mancanza di potere decisionale. Grazie a tutti.